Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso rallentamenti tra il bivio di Firenze Nord e Barberino sulla A11 per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola in direzione Firenze. Sulla A12 per lavori un chilometro di coda tra Bersidia e Carrara in direzione Genova e tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Sulla Statale 1 Aurelia per lavori alla pavimentazione chiuso da oggi lo svincolo la California Cecina Sud in ingresso e in uscita in direzione Grosseto. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori chiuso il tratto via delle Gore via delle Panche. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.